Buongiorno a tutti, come saprete il nostro ospedale di Bussarsizio è una delle strutture designate per curare i malati di coronavirus. Gli operatori stanno profondendo e impegnando ogni risorsa per garantire cure efficienti ai pazienti, ma l'aumento esponenziale dei contagi sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. Colgo innanzitutto l'occasione per ringraziare di vero cuore tutti gli operatori medico-sanitari che da giorni stanno combattendo contro questa epidemia con turni estenuanti, ma vi ricordo che è possibile dare un aiuto concreto tramite una piccola donazione al numero di IBAN che compare sovraimpressione e che è intestato al nostro ospedale. Un piccolo contributo se potete, ma che può fare davvero la differenza e soprattutto può consentire al nostro ospedale di continuare a garantire cure adeguate per tutti.